1000 tre cilindri ecoboost sono 100 cavalli erogati molto bene senza vibrare quindi non ha le sonorità tipiche del tre cilindri buona la coppia ogni variazione appunto di gas comfort abbastanza rigido da vetturetta sportiva buono lo smorzamento da una buona sensazione di solidità la rumorosità è molto contenuta sui fondi lisci un pochino più rumorosa sugli asfalti autodrenanti posteriore fermo e sicuro in fondo è molta sicurezza l'SP è chiamato in causa solo nelle manovre più severe comportamento dinamico veramente molto buono siamo i vertici della categoria lo sterzo è molto pronto a portarci in curva e il rollio è molto contenuto